Con la coppa già a casa in bacheca e vedremo cosa farà, si divertirà credo a questo punto nell'ultima gara. Eccola qui Marta che alza la sua coppa, finalmente abbiamo le prove, non esistono numeri, non esiste nulla, esiste soltanto Marta Bassino, la regina del gigante femminile, eccola qua, che bella Paolo, che soddisfazione. Poi sai pensare anche, ti viene in mente il passato, la Deborah Compagnoli, la Divina, poi la Carbon, l'inno. Pagliari Pagliari